Vuoi imparare a parlare italiano o vuoi migliorare, perfezionare il tuo italiano? Allora iscriviti a un corso di italiano con noi, Compassione Italiana. I nostri corsi sono online, su Zoom, con insegnanti madrelingua, qualificati e con più di 15 anni di esperienza nell'insegnamento dell'italiano come lingua straniera. Offriamo corsi a diversi orari del giorno, così che persone da tutto il mondo possano partecipare. Vai subito sul nostro sito, fai il test e iscriviti al corso giusto per te. I corsi sono offerti a vari livelli, principianti, elementare, intermedio, post-intermedio e ti aiuteranno a parlare italiano, a imparare nuove parole, a migliorare la comprensione orale e scritta e a perfezionare la grammatica. Quindi non perdere tempo, ti aspettiamo!